Ciao a tutti, sono Arianna Mortelliti e non vedo l'ora di incontrarvi venerdì 19 maggio alle 18.30 per la presentazione del mio primo romanzo, quella volta che mia moglie ha cucinato i peperoni. A presto! Ciao a tutti amici, io sono qui per invitarvi venerdì 19 maggio alle ore 18.30 presso la Sala Incontri dello Studio Porcaro, Bocanti e Commercialisti ad un importantissimo evento culturale. Infatti ci raggiungerà a Benevento la giovanissima scrittrice Arianna Mortelliti per presentare la sua prima fatica letteraria, quella volta che mia moglie ha cucinato i peperoni. Lei è sì una giovane scrittrice al suo primo romanzo, ma essendo cresciuta alla scuola del nonno Andrea Camilleri avrà sicuramente un lavoro molto molto intrigante da presentarci. Arianna Mortelliti firma un fulgorante esordio, disincantato e ironico, ma dolcissimo e accorato e ci fa esclamare con gioia che è proprio vero che il sangue ha le sue ragioni e che non mente mai. Maurizio De Giovanni Prenderanno parte alla presentazione l'assessore alla cultura di Benevento Antonella Tartaglia-Bolcini l'assessore al turismo Attilio Cappa, Luca Dell'Ipsis, consigliere comunale e componente della Commissione Cultura modererà invece la discussione Filomena Donato. Voglio ricordarvi che questo evento è promosso dalla piccola associazione culturale Pacu e alla direzione artistica di Antonio Parciasere. Allora, io vi aspetto, voi segnate la data, venerdì 19 maggio all'ora 18.30 presso la sala incontri dello studio Porcaro, avvocati e commercialisti in via vittime di nasseria nei pressi del mega parcheggio. Che cosa aspettate? Venite a trovarci. Ciao! Ciao!